Eccoci qua, Walter Scerbo, nuovo sindaco di Palizzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, auguri per la tua vittoria in bocca al lupo, per la tua attività amministrativa che da oggi comincerai nella città di Palizzi. Sì, in bocca al lupo devo dire che deve essere rivolto a Palizzi, perché noi, la scelta che ha fatto la cittadina di Palizzi, i cittadini di Palizzi, è per un radicale cambiamento e noi l'abbiamo apprezzato con un voto che è stato strabiliante, con un margine che non lascia dubbi su qual è stata la volontà dei cittadini e noi siamo consapevoli di ciò e lo portiamo come bagaglio gravoso per un impegno ancora più forte verso il cambiamento radicale che deve essere attuato all'interno e all'esterno del Comune. E che progetti hai nell'imminente futuro per la città di Palizzi? Anche perché Palizzi esce da un'amministrazione, c'era un'amministrazione normale, è stata sciolta non per infiltrazioni mafiose, questo giusto per ricordarlo perché ci sono tante amministrazioni sciolte per mafia, arriva magari Palizzi che è sciolta semplicemente per motivi politici e si fa confusione. C'è stato un commissario per circa un annetto dalla scorsa primavera ad oggi, com'è la situazione a Palizzi adesso dopo quest'anno di commissariamento e come ti chiedevo che progetti hai per il futuro? Sì, in effetti come hai voluto tu specificare Palizzi è stata sciolta per crisi politica, per decadenza del Consiglio Comune in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e da luglio dell'anno scorso è stata retta dal commissario prefettizio dottor Barilla, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la sua imparzialità e capacità di terzi età che ha dimostrato in questo quasi anno di gestione del Comune. Come dicevi tu, noi intendiamo porre subito in essere delle azioni amministrative che diano il segno netto, chiaro del radicale cambiamento e lo faremo attraverso l'immediata riorganizzazione degli uffici che è un segnale forte che la gente si aspetta e a cui noi non vogliamo sottrarci perché è stato uno degli elementi fondamentali della campagna elettorale e non vogliamo sottrarci anche perché è un'esigenza ineludibile, questa è nell'immediatezza, l'altra immediatezza, l'altro intervento che dovrà essere fatto subito per dare risposte immediate è quello degli interventi a sollievo della disoccupazione giovanile, noi attueremo immediatamente il cosiddetto lavoro a tempo con i voucher lavorativi, con i voucher lavorativi per dare intanto sulle volle desoccupazione giovanile come dicevo, ma anche perché il territorio di Palizzi ha necessità di interventi immediati di decoro urbano, dai cimiteri alle strade interne a quella che è l'assistenza ministeriale agli anziani, noi dobbiamo operare immediatamente perché dobbiamo ripristinare le condizioni di civiltà che in atto mancano, ripeto, perché il Paese, il territorio per la stragrande maggior parte dello stesso è abbandonato appunto a se stesso. E guarda, queste tue considerazioni e il tuo programma nei comuni dell'area grecanica praticamente non dico uguale ma quasi nel senso che sentivamo prima il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi e dice che uno dei primi interventi sarà sburocratizzare gli uffici comunali, quindi siamo lì e altrettanto per l'ambiente, per il decoro urbano perché ormai penso si sia capito che se si vuole attirare il turismo bisogna anche dare una bella immagine della propria città e quindi se rinascono tutti i nostri comuni, rinasce l'area grecanica e tutti insieme ovviamente abbiamo degli effetti alle nostre attività sempre migliori. Se vuoi aggiungere qualcosa? Io sono felicissimo del fatto che a Bova Marina abbia vinto Vincenzo Crupi con cui abbiamo un rapporto personale ideale legato al suo padre, a cui mi legava una intima amicizia. Il fatto che sia lui lì sindaco mi rincuora perché sicuramente potremo lavorare in simbiosi essendo Bova intimamente connessa come ben sai a Palizzi. Beh, infatti diciamo due cuori unanimo. E' un segno forte per la rinascita dell'area grecanica che come tu stessi detto è stata funestata dagli scioglimenti per mafia. Infatti speriamo... Ringrazio tanto per l'attenzione che ho voluto porre a Palizzi chiamandomi per dare la mia testimonianza. Speriamo che in futuro possiamo ulteriormente rafforzare la collaborazione anche con voi che siete elemento fondamentale per la comunicazione sul territorio perché i cittadini sappiano. I comuni devono essere una casa di vetro anche attraverso la stampa. E noi siamo disponibili, anzi io ti vado invitando poi ti farò sapere la data con molta precisione e inviteremo tutti i nuovi sindaci dell'area grecanica qui in studio ad intervenire. Quindi ovviamente sei il benvenuto e devi venire assolutamente. Io sarò con voi. Grazie mille a Walter Cerbo, il nuovo sindaco di Palizzi che abbiamo avuto al telefono proprio adesso. Grazie ancora.